secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di guarda i miei video iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie prospera insieme possiamo costruire una losantos più forte più giusta e più prospera vi chiedo di unirvi a me in questo viaggio grazie e votate gennaro savastano fiducia e cambiamento per una losantos migliore cazzo no faccio io ma buono come ha fatto che dai venite oh stai mi metti civico 42 anzonas per se non lo metto nella posizione esattiva oh ma chi è piatto il bm che chi è tre mesi spazi nel tuo bmv ma roba 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 o o o e se sbagli le prendi non compri la tua vita manco con sette stipendi madonna mia un paesano che dovrebbe lavorare qua sembra bello attivo se non mi sbaglio c'è posto no eh c'è posto si vai giù ma ho saputo il stipendio qual è? chi li è? si si il 20% lo so chi è questo? vashko allora vashko il stipendio tu è 17.310 buh ahahahah questo è colpa andoni eh pericoloso che cosa ragazzi cosa non si vede ragazzi ok metta posizione posto no si si va ma fa contatto cosa frate cosa che se ne va la corrente qui a Giuliano che ci posso fa cosa fa contatto che cazzo fa contatto porco dio ah vabbè non lo può correre eh madonna mia parite che scendi da coppia e nuvolo non lo so è la zona che ci vuoi fare ma e non ti arrabbiare porco dio sembrate che porco dio rincoglioniti che non capite una cosa se ne va la luce c'è il gruppo di continuità che continua la corrente a mandarla porco dio di e ah fanno 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 uno che Vivo che merda Come stai tu? Grazie mille Alzo un'attacca La musica non si sente Adesso si sente? Eh ma io ho paura che si sente poi nel ritorno Dentro Dentro le cuffie Prova a fare una clip No no Di sottofondo io la voglio mettere È automatico Capite? È automatico ormai È automatico Che ci posso fare? Qualcuno sa impostare OBS per le registrazioni video Che si vede E si sente Amore Mi broglio sempre Scusate Allora La nuova playlist Da Come si fa? Attivo riproduzione casuale Sì è casuale vai Mettiamo casuale? Sì a cavolo vai No mettiamo ordinato no? Vabbè Metti tu come ti fai Ordinato casuale vai giù Casuale su Va cazzo no? Mi devi convincere Comunque Antonio Fai il gigolo E se fai il gigolo Non ti do Non ce la mette la buona parola Sto scherzando Comunque dai Metticela buona parola Diretto come si chiama? Io e Gennaro Che buona parola Non esiste Non esiste proprio Come si chiama il ragazzo Che ha Posizione sulla scritta Posizione sulla scritta Di Los Santos Boston Con lo sfondo Capito con la scritta Di Los Santos Che dici? Per iniziare Eh sì Che direi cittadini Di Los Santos Eh sì C'è stato scritto Los Santos Ovenbart No Vinewood Ah Vinewood Cazzo Aspetta Però un punto alto Un punto alto Che si vede Al governo Al governo Brava Andiamo al governo 700 Ma dovrei che Sennò la fa Che cazzo Clippato Sennò sta clippato Ma tu la faccio In un secondo Se sento l'eco Ma tu non mi faccio Ma mi dà Mettacchi di ogni cosa Facciamo cambio Eh? Facciamo cambio No Dai vai tu da me No Oh diamante 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 Usiamo una Che lavoratore Eh? Eh? Ma io mi sei Quello che è fuoco Colosseo Ma da poi Si è andato a 40 km Scusami Andate le dalle 45 km Fa il bicicletto E' arrivato a zero Andò Che clip è questo? L'ha fatto a Pasquale Palermo Che cazzo Clippe Mo? Che clip è? Ma che clip Facita? Che cazzo Che cazzo Che qua Non ci ricordo Ma Non ci ricordo Ma Che cazzo Che schifo Ma Mi scrive Son morto, son morto, cioè son il trutto Certo LGBT Start now C'è lì ma 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 volpe frate scendi dalle nuvole magari fa contatto cosa che questo bip che contatto può essere voglio capito cazzo vivi tu nell'ospedale vivi che cazzo ne so mica ci mettiamo i cosi del cuore che non serve la pressione non lo so e se nata volta negli da corrente un'altra volta grazie e no ha detto solo tutti i treni ha detto non faccio venire troppa gente ma porta pure i soldi portano le macchine portano per tutto la sicurezza che ha commesso divino cinque reati minori per dare loro una chance di reintegrarsi nella società reintegra reintegra voi rimane a reintegrarsi non ci parla non ci parla non ci parla condono condono